1, 2, 1, 2, 3, 4 Allora, raga, ciao a tutti, mi chiamo Dario Trapani e questo è il collettivo di uno smonk Ciao Abbiamo iniziato uno Abbiamo iniziato a suonare un anno fa Mentre io iniziavo a scrivere gli arrangiamenti per la mia tesi di laurea al Conservatorio Verdi Nel giro di quest'anno sono successe un sacco di robe bellissime Siamo stati all'Umbria Jazz a suonare Siamo stati in Sicilia E siamo stati in un sacco di club E oggi il nostro desiderio è quello di andare in studio e registrare il nostro primo disco E il repertorio è la musica di Talonius Wonk E il repertorio è la musica di Talonius Wonk Abbiamo fissato due session in studio La prima a novembre e la seconda a gennaio Durante la prima registreremo i miei arrangiamenti della musica di Talonius Wonk E nella seconda registreremo altra musica Ad oggi devo dire che l'entusiasmo per questo progetto è altissimo Ma devo ammettere che girando in tentetto, cioè in dieci elementi Si fa fatica a raccogliere i fondi necessari per realizzare questo progetto In più siamo tutti musicisti full time E tutto ciò che guadagniamo proviene dalla nostra attività come musicista Per questo motivo ci trovate qui su MusicRazer Per chi non lo conoscesse, MusicRazer è il più grosso portale di crowdfunding in Italia Il funzionamento è molto semplice Un artista affisso a un budget minimo necessario alla realizzazione del progetto Che viene finanziato dal pubblico in cambio di ricompense di ogni genere Se la cifra viene raggiunta o superata Il progetto viene finanziato e voi avete le vostre ricompense In caso contrario voi avete indietro i vostri soldi E noi non riusciamo a realizzare il nostro progetto E questo sarebbe molto triste In questo caso il nostro budget minimo è di 3.000 euro Ovvero i soldi necessari ad andare in studio a registrare Creare il merchandising, realizzare questo video e promuoverlo E stampare le copie del disco Prendere parte del progetto vi richiede due minuti E questa è la nostra idea E se vi piace dovete sapere che per noi in questa fase Ogni contributo dal più piccolo è veramente fondamentale Per la realizzazione del nostro scopo Quindi confidiamo nel fatto che insieme questa cosa possiamo realizzarla E bello lì, ci vediamo alla presentazione del disco Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti